Ti serve qualcosa? Mi dispiace che ti sposti a causa mia. Ci sta. Ci sta? No, vuol dire che va bene. Il tuo vestito è seducente. Io non avevo intenzione di lusingarti, ti prego. Ti prego non dirlo. Non devi scusarti. Alla gente piacciono i complimenti. La gente deve trovarti carina. Immagino di sì. Non ho poi così tanti amici. Uno. Ho solo un amico. Se vuoi ti faccio fare il giro della camera. Ci sta. Ok.